È un'operazione di grande respiro culturale che è proiettata già intorno su uno scenario che è più basso proprio in termini di attività culturale. Mi piace come titolo una rivista proprio in queste ore a Grigento, in questa settimana Capitale della Cultura, perché l'incrocio tra il barocco siciliano con Serpotta e il barocco romano con Gian Lorenzo Bernini a Santo Spirito. L'operazione che andrà in onda più tardi con l'inaugurazione delle foto di Frida, che anche questa è una grande operazione secondo me culturale, segnalano come a Grigento intende fare della variabile culturale e dell'arte uno dei suoi elementi strategici di marketing territoriale.